Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo ad analizzare le nuove immagini rilasciate in un casino del Gamescom 2020 di ieri sera e che ci permetteranno di dare uno sguardo più da vicino alle nuove sottoclassi dell'oscurità. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuove video in uscita, ed ora iniziamo. Oltre al telepubblicato ufficialmente durante l'evento delle Gamescom, sono state rilasciate immagini e video che ci permettono di osservare al meglio queste nuove abilità. Iniziamo subito con il dire che, come ormai è chiaro, queste nuove sottoclassi si serviranno di un nuovo tipo di danno elementale, la Stasi, che caratterizza superabilità dei guardiani con dei comportamenti che rimanderebbero ad una sottoclasse glaciale, ma andiamo per ordine. Innanzitutto sappiamo quali saranno i nomi di queste sottoclassi e per alcune possiamo anche rivelare il nome della supervera e propria. La via del Titano si chiamerà Behemoth, nomerebbe solo la potente creatura biblica, e la supercorrispondente sarà il terremoto glaciale. All'apparenza questa sembrerebbe molto simile al pugno della distruzione. All'attivazione infatti i pugni del nostro Titano si ricopriranno con due grandi cristalli di Stasi, che ci permetteranno di schiantarci al suolo con conseguenze devastanti. I pugni del Titano infatti congeleranno all'istante i nemici nelle vicinanze e genereranno 6 pilastri ghiacciati che uccideranno chiunque venga colpito. Possiamo quindi desumere che questo sia l'attacco pesante di questa superabilità, per intenderci il corrispondente dello schianto a terra del pugno della distruzione. Proprio come per quest'ultimo però, potremmo scagliare anche attacchi leggeri, ovvero spallate dirette contro nemici che li congeleranno per poi ucciderli. A mio parere questa super trova un compromesso tra attacchi a distanza e da mischia, permettendoci di colpire i nemici vicini con le spallate, mentre quelli lontani con i pilastri di Stasi. Nei vari video in analisi inoltre si vede anche un personaggio non meglio noto eseguire un pugno a terra che scatena tre file di cristalli di Stasi di fronte a lui, è quindi possibile che possa trattarsi del corpo a corpo caricato legato alla sottoclasse del Titano, l'equivalente quindi della spallata caricata o dello schianto balistico. Passiamo ora al cacciatore, che seguirà la via del Revenant per attivare la super, silenzio e burrasca. Come al solito le abilità del cacciatore si basano su armi da mischia, talvolta lanciabili. In questo caso si parla di due falci create con i cristalli di Stasi. Il super del cacciatore ci permetterà quindi di lanciare queste due falci a modo di sbarramento, creando esplosioni devastanti che uccidono i nemici colpiti direttamente per congelare quelli più lontani dal centro dell'esplosione. L'argomento di cui però si è discuto ormai da qualche settimana è il coltellino congelante di cui il nostro cacciatore dispone. Nei trailer viene infatti mostrato più volte quello che dovrebbe essere il corpo a corpo caricato del cacciatore, ovvero una sorta di stella shuriken in grado di congelare i nemici colpiti e di rimbalzare addirittura sulle pareti. Tuttavia guardando il video rallentatore è possibile scovare un dettaglio non da poco riguardo quest'arma. Infatti facendo attenzione a questa scena in cui il cacciatore usa gli shuriken incaggiolo contro due guardiani avversari, possiamo notare come questi non vengano congelati subito, ma come la prima stella le rallenti soltanto. oltre ovviamente a danneggiarli e di come sia invece la seconda stella lanciata a congelarli poi definitivamente. Non nascondo che questo elemento possa essere fastidioso in crogiolo, tuttavia dovremmo aspettare di saperne qualcosa di più scoprendo per esempio se esiste un modo per liberarsi da questo congelamento. Arriviamo ora allo stregone di cui sappiamo molto poco rispetto agli altri. La sottoclasse oscura si chiamerà vincolatore del vuoto e ci permetterà di impugnare uno scettro di stasi in grado di congelare e disintegrare i nemici. Da quello che ci è stato fatto vedere lo stregone potrà sparare dei dardi congelanti ai nemici che gli si parano davanti, per poi distruggerli con un onda d'urto, le cui schegge congelate andranno a danneggiare anche i nemici nelle vicinanze. Tuttavia da questa scena possiamo dedurre che lo stregone sarà in grado di disintegrare anche i nemici congelati in altro modo e che quindi questi non debbano necessariamente venire colpiti dai suoi dardi. Per quanto riguarda invece il corpo a corpo caricato, questo sembrerebbe essere molto simile al fuoco celestiale già presente in game. Lo stregone infatti potrà estrarre un piccolo scetto in grado di sparare un unico dardo congelante ad una distanza non particolarmente elevata. Per ultimo parliamo ora delle granate, che dai video rilasciati sembrerebbero essere le stesse per tutte le classi. La prima, e forse la più interessante, è il muro di stasi. Questa ci permetterà di generare dei pilastri di stasi lungo la superficie impattata. Nei trailer viene fatto vedere come questa granata possa avere diverse applicazioni, usata per esempio come scudo lanciando la terra, oppure come ponte se scagliata contro una parete. La seconda granata è anch'essa molto interessante. Il campo di stasi infatti genererà una bolla in grado di rallentare i nemici al suo interno. Ammetto che questa potrebbe essere la più ostica se incontrata in crogiolo, dato che apparentemente non c'è un modo per contrastarla. Per ultima abbiamo una granata molto simile alla folgorante delle levoca tempeste. Questa infatti genererà una nube di stasi che congelerà i nemici al suo interno, concatenando l'effetto a quelli vicini. Quindi ragazzi questo era tutto quello che siamo riusciti a ricavare dalle immagini rilasciate ieri, ma sappiate che per informazioni più dettagliate ci basterà attendere qualche giorno, dato che Bungie stessa ha annunciato la rivelazione delle sottoclassi oscure per il primo, 3 e 8 dicembre. Nel frattempo fateci sapere la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.